Il valore degli immigrati nell'economia italiana, lavoro e impresa. Questo è il titolo del convegno tenutosi all'Auditorium San Paolo Postolo di Frosinone. Insieme al vescovo Ambrogio Spreafico, anche l'editorialista del Corriere della Sera, Dario Di Vico, e il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe. A moderare il dibattito, il direttore della Caritas diocesana, Marco Toti. Si parte dal dato reso noto dalla Fondazione Leone Moressa nel rapporto sull'economia dell'immigrazione. Due numeri su tutti, 4 milioni di occupati immigrati, hanno prodotto in Italia nel 2016 130 miliardi di valore aggiunto che corrisponde all'incirca l'8% del PIL. Un dibattito che ha interessato i dati economici più che gli aspetti valoriali messi comunque in evidenza dal vescovo Spreafico. In risalto l'imprenditoria straniera e la forza lavoro, con il presidente Stirpe che ha ribadito gli aspetti economici fondamentali e la necessità di una cabina di regia importante da parte dell'Unione Europea. Dario Di Vico ha invece puntato il dito sul modello di accoglienza e sul fatto che in ogni caso ci si debba rapportare agli stranieri partendo dal presupposto che siano delle persone e non dei numeri. Persone che si portano dietro un bagaglio di cultura e valori che non può essere sottovalutato. Abbiamo scelto questo tema perché bisogna anche parlare positivamente del valore dell'immigrazione nel nostro paese che tutti conoscono dalle cifre che dà in continuazione Boeri a quelle che sappiamo dai dati di quanto producono di PIL nazionale e quanto versano di tassi gli immigrati nel nostro paese quindi bisogna anche riconoscere che la loro presenza è una presenza che contribuisce anche al nostro benessere contribuisce anche al pagamento delle pensioni degli anziani e quindi io credo che sia necessario oggi avere uno sguardo nuovo al fenomeno dell'immigrazione. Innanzitutto l'immigrazione che già è presente nel nostro paese da tanti anni penso anche alla nostra provincia, insomma quanti sono qui da tanti anni dal Marocco piuttosto che dalla Romania, dall'Albania e poi bisogna capire il fenomeno dell'immigrazione a livello mondiale cioè noi non possiamo solo fare un discorso relativo a noi, all'Italia, all'Europa ricordiamoci sempre che la maggior parte, credo l'80% dell'immigrazione non è in Europa. È vero che non si sono verificati conflitti e concorrenza sul mercato del lavoro perché la maggior parte dei lavoratori stranieri sono andati a coprire posizioni che ai giovani e non giovani italiani non interessavano quindi infatti noi non abbiamo avuto conflitti però noi ci dobbiamo fare delle domande perché ai giovani non interessavano e quindi c'è un'idea forse del lavoro manuale in qualche maniera un po' da ridiscutere e comunque non è detto che siccome sono lavori che gli italiani non vogliono fare più sono lavori che rischiano di essere nel sommerso o in qualche occasione più di qualche occasione è una situazione che è in via di evoluzione perché sono in via di evoluzione tutte le normative a livello europeo che dovrebbero regolare il frusso d'inglesso all'interno della nostra comunità sono stati fatti numerosi progressi su questo versante però rimane sempre il problema centrale che esiste troppa indipendenza da parte dei singoli stati nello stabilire le regole di ingresso in definitiva per cui la normativa europea dà solamente la cornice c'è un perimetro all'interno del quale i flussi debbono essere debbono entrare però a mio avviso c'è troppa discrezionalità da parte dei singoli paesi nello stabilire le regole d'ingresso